Ma quindi è vero che traslocate? Sì, in questa casa lascerò una parte di me. Il cuore? No, mia moglie, se non la smette di fare altri scatoloni. Per tutta la sua roba ne ha già fatti 32. E tu? La roba tua? Tutta qui dentro. Solo che ha detto che devo cercare di renderlo meno ingombrante perché se no nel furgone non entra. Perché mo' è questo il problema, capito? Dieci scatole sono solamente per tutte le sue scarpe. Io non ho ancora capito che cosa se ne fatti tutte quelle. Forse nella vita precedente ero mille piedi e quindi una piede. Amore, ma con chi parli? Con il vicino, perché? Ma se sono due anni che non ci abita più nessuno lì. Tu lo sai che domani ci sposiamo, sì? Ma quindi tu non esisti? Cioè tu sei solo una proiezione del mio subconscio che per tutto questo tempo mi ha messo in guardia per non sposarmi. Esatto. Ma io ti vedo. E vedi di darmi una mano col traslocal, allora? Dai, ti aspetto.